Siamo questa sera qui al Caravaggio Sporting Village dove si sta svolgendo la straordinaria manifestazione settimana di Babbo Natale Siamo in compagnia di Gnomi, Elfi ma soprattutto siamo in compagnia della dottoressa Margherita Longo della fondazione Maria Guarino Amoronlus Dottoressa ancora una volta in prima fila, ancora una volta in campo, l'anno scorso annato andò benissimo, quest'anno come sta andando? Sta andando molto bene, siamo qui per donare per la ricerca sul pancreas con ossigeno ozono, cannabis e melatonina Quindi vi aspettiamo allo Sporting Club Village Caravaggio a Napoli, saremo fino a giovedì dalle 16 alle 20 La parola d'ordine è? Donare! Donare fa bene! Noi dobbiamo ringraziare anche tutti gli amici del reparto tecnico che ci stanno, Francesco il direttore di questo straordinario evento Buonasera Francesco, grazie innanzitutto, lo sport fa bene, lo sport fa bene anche alla solidarietà Sì, noi ci teniamo molto a queste iniziative perché ci fanno piacere soprattutto per i bambini e per tutti quelli che riusciamo ad aiutare nel nostro piccolo Ovviamente pratichiamo il nostro course business e lo sport, la salute e il benessere dei bambini Facciamo molte discipline qui al Caravaggio e ci fa piacere arricchirle con queste piccole manifestazioni dove ospitiamo associazioni come voi che aiutano le persone e i bambini Grazie Francesco, noi vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il Caravaggio Sporting Village è un centro straordinario multidisciplinare Venite a trovarci, grazie Francesco Ancora, buon lavoro a voi Grazie